Signori, il Molise esiste! E ve lo dice uno che ci ha camminato per 270 chilometri attraverso. Per nove giorni ha fatto questo percorso che vedete, che neanche a farlo apposta ha creato un punto interrogativo sul Molise. Sono partito da Termoli, con la sua lunga spiaggia, dove i campeggiatori proprio non li vogliono. Il Molise è un posto incredibile, dove su un sentiero puoi trovare un greggio di pecore, magari anche due, e fare due chiacchiere con il pastore. Il Molise è quel posto dove ti fanno sentire al sicuro. Il Molise è ricchissimo di lacchi e di corsi d'acqua. Devi andare a cercarteli. Il Molise è un posto in cui lo scorrere del tempo si vede, e anche a volte lo scorrere di qualche incivile. Il Molise è un posto in cui puoi trovare un pulmino in mezzo al niente, ma anche un televisore. Non si sa mai, avessi voglia di guardare qualcosa. In Molise puoi conoscere tutta la popolazione di un paese al bar. In Molise la salsa si fa come una volta. In Molise se chiedi una pizza con la mozzarella di bufala, ti mettono la mozzarella di bufala intera. In Molise ha dei panorami eccezionali e delle chiese incredibili. Un sacco di chiese. Chiese ovunque, anche dove meno te la aspetti. Beh, in Molise c'è una cittadina che si chiama Agnone, che produce campane da millenni e da qualche parte dovranno pure appenderle queste campane. In Molise troverai un sacco di fiumi che ti sbareranno la strada e dovrai guardarli se viaggi come me a piedi. Ma questi fiumi sono così belli e puliti che ti verrà voglia di farci un tutto. L'unica cosa, sappi che l'acqua sarà freddissima, ma un boiler non si può mettere. A monte, non lo so, da qualche parte. In Molise ti specchierai nei laghi. In Molise quando si fa la legna, la si fa per bene. In Molise, a volte. Sarai costretto a camminare anche sotto la pioggia. Vabbè, ma effettivamente questo succede anche in tutte le altre regioni d'Italia. Però in Molise quando poi il cielo si apre, diventa ancora più bello. E potrai godere di ruscelli, di cascate. Potrai godere di laghi meravigliosi. L'alto Molise è una perla, credetemi. In Molise ce ne hai di strada da fare. E magari incontrerai anche altri viaggiatori. Dei viaggiatori particolari come questo qui, che pur di non lavare una maglietta, a fine giornata decide di buttarla via. In Molise ho camminato anche lungo le tangenziali. E' qualche sopraelevata, ok, non lo nego. In Molise ci sono dei gatti a cui proprio non gli va di spostarsi. In Molise l'acqua non manca mai. E a volte la sistemano anche abbastanza bene. In Molise vedrai delle cascate meravigliose. E ti ci potrai anche tuffare dentro. Ti diranno di non farlo, ma tu vado lo stesso. In Molise ci sono dei borghi interamente costruiti di pietra. In Molise l'acqua non si nega a nessuno. Basta andare in segreteria. In Molise ci sono ancora degli operai. Che fanno il pisolino sulla strada. In Molise, per non invocare nessun santo, si dice Pessante niente. In Molise ci sono dei cartelli molto chiari. In Molise ci sarà sempre un cane che ti corre dietro. Il Molise è una terra antica, dove se cerchi bene potrai trovare dei siti in cui i resti dei sanniti, dei romani, sono conservati benissimo. Ho risposto alla chiamata del Molise e ti ringrazio se anche tu sei stato parte di questo viaggio seguendomi. Il Molise è un posto meraviglioso, credimi. Parola di un cretino. Il Molise è un posto meraviglioso. Il Molise è un posto meraviglioso. Grazie.